che riprendiamo per gli ultimi due interventi del nostro incontro e appunto dopo aver parlato con l'intervento di Irene Favaretto della dispersione dei fregi del Pardenone, dell'arrivo di alcuni reperti dell'Acropoli a Venezia, peraltro di spazio pubblico diciamo, ingresso dell'arsenale, Lioni e così via vediamo adesso invece tramite l'intervento di Marino Zorzi quali appunto fossero le via via collezioni delle raccolte che in altre occasioni e quello che ci illustrerà Marino Zorzi si erano accumulate in Casa Morosini a Santo Stefano e che poi andarono in dispersione. Ah sì Funziona? Sì Ecco, allora la parola a Marino, prego Grazie, grazie Presidente Vorrei anzitutto ringraziare gli amici Camillo Tonini e Monica Viero Ah, troppo forte Dunque Camillo Tonini e Monica Viero, l'importante è che mi sentano Del Museo Correr, Andrea Pelizza e Giovanni Caniato dell'Archivio di Stato per l'aiuto che hanno così generosamente prestato al mio lavoretto A Camillo Tonini è dovuto un importante studio su questo argomento di cui ora parlerò E a Giovanni Caniato un utilissimo articolo sui Morosini della Sbarra Di entrambi mi sono naturalmente servito Prenderei ora le mosse dall'ultimo atto giuridico del Doge Francesco Il Testamento, redatto a Nauplia nel 1694, pubblicato dal Cecchetti Nasce a sette istituti, più di pi, cento ducati ciascuno Prescrive che siano celebrate sei mila messe dentro tre mesi per la sua anima A Daniela, figlia del fratello Michele, nostra amata nipote, scrive Nasce a cento ducati all'anno Alla cognata Regina Zustinian, moglie del fratello Lorenzo E a Paulina, moglie del nipote Francesco Nasce a cento ducati una tantum E il godimento, assieme ai figli e al marito, di tutti i gioielli conservati in casa Al nipote Michele, che dice il più povero Lasce un miluno a Melma, che abbiamo imparato l'altro giorno, che è Silea Una vaccheria a pietà rossa, nonché abiti rense, cioè lini preziosi, vesti e manti Segue poi una disposizione che sulle prime sorprende Lascia all'Istituto della Pietà tutta l'argenteria 11.424,11, 330 chili E i crediti per 27.000 ducati, che è una bella cifra E gli vanta verso i nipoti e il loro padre Lorenzo Per denari capitali e molte rendite Per il tempo che siamo stati lontani dalla patria Cioè che avevano evidentemente incassato loro Ma ad una condizione Il lascito sarà efficace Se questi si separeranno col fare più case Se invece staranno uniti Rimanga il tutto a loro Evidentemente il doge vuole Che secondo l'antico uso veneziano I fratelli rimangono uniti nella fraterna compagnia Il che poi avvenne Ma la disposizione più importante è l'istituzione Per tutto il rimanente, scrive Di una progenitura in testa al primo figlio Che il signor Iddio dovesse donare al signor Francesco Nato a Paulina, sua moglie Se non dovesse nascere Il fido commesso doveva trasmettersi Ad altro nipote primogenito Se no in altra casa Morosini Ma sempre con esclusione delle femmine Tutti i primogeniti dovevano chiamarsi Francesco Perché tra l'altro generano una difficoltà terribile Una confusione per individuare Qual è il Francesco giusto Il rimanente E il doge costituisce in prigionitura Non era cosa da poco Oltre al suntuoso palazzo di San Stefano Acquisito dal padre Pietro Come abbiamo sentito ieri Grazie al matrimonio con la Priuli Quella prima, la seconda La prima invece poveretta era negata Come ci ha raccontato ieri Gullino Vi erano case a Venezia E vaste proprietà immobiliari della terraferma Dei vari rami Morosini dalla sbarra Quello degli sguardolini di San Stefano Si chiamavano così Erano così soprammoniati nel Cinquecento Penso per i cappelli rossicci Da sguardo Rosso in veneziano Non so come mai Ma deve avere un'origine longobarda forse Il Boerio traduce vermigliuzzo Un po' rossetto Il ramo non era certo il più povero E il doge con i bottini di guerra Aveva dato poi un forte incremento al patrimonio Infine il doge benefica i servitori Il nano E tre more A questa lascia cento ducati Quando si sposano Raccomandandole agli nipoti Perché non vadano di male Questo è quanto raccomandiamo Agli amatissimi nipoti Conclude il doge E li nomina Pietro Francesco Michel Girolamo Che non è neanche nominato Perché Prima aveva iniziato una carriera Come consigliere ducale Poi si era fatto monaco E si vede che il doge Pensa che è passato ormai A una diversa obbedienza E lascia che si arrangi E diventerà vescovo Di 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 Brescia Pietro Nato nel 63 Si era comportato molto bene Nella guerra di Morea In cui aveva cominciato Come sopracomito Nella galera dello zio Poi fu comandante Delle galeazze Con bettea corone E Gli venne Conferito Il cavalierato Trasmissibile agli eredi Francesco Nato nel 1666 Fu dei dieci Dice il cappellari E capitano di Padova Non ebbe figli Michel Nato nel 1670 Prese parte All'ultima guerra Dello zio Eletto comandante Nel 1692 E fu nominato Nel 93 Dello zio stesso Comandante Nella sua galera E li fu molto vicino La nobile lettera Di commiato Inviata al senato Dal doge Ormai consapevole Della morte imminente Il 2 gennaio 1694 Si conclude con le parole Non proviamo altro sconforto Che quello di non avere potuto Quanto desideravimo In servizio della patria Operare E quant'ella ben meritava Perché il doge Scrive sempre in modo magnifico Sontuoso E poi però Continua E aggiunge Il nobile uomo Sermicelmo Rosini Nostro nipote Ametissimo E governatore Della galera ducale Che con devotissimo affetto Continua ad assisterci Udendoci a questo punto A replicare Sia fatta la volontà di Dio Soggiunse Quella sia Della maggior gloria E Del vero bene Della serenissima repubblica Lui lo scrive Anche perché Desidera che I nipoti Siano trattati bene Dallo Stato Si raccomanda molto Dopo nel seguito Dicendo che sono tutti Delle bravissime persone Amanti della patria E che meritano Di essere Valorizzati E la repubblica Non fa mancare Un riconoscimento Perché li fa senatori Tutti e due Uno a 27 L'altro a 23 anni Cosa Decisamente Eccezionale E Nonostante questo L'affetto per Michel La prima genitura Fu assegnata Al figlio precedente Il primo Piero A un certo punto Sparisce E quindi non entra Nella successione Non se ne parla Invece Francesco Cera Era rimasto Sicuramente a Venezia Aveva Lavorato Per l'amministrazione Ma non ha Doge Rispetta la sua precedenza Cronologica Diciamo Ma non ha figli Nemmeno lui E allora La prima genitura Si trasferisce A Francesco A Michel A Michel A Michel A Michel Il proprio Questo figlio Questo nipote Che lui aveva Tanto Apprezzato E Da lui Nacque Dopo parecchio tempo Però Nel 1712 Francesco Primo Da lui E da Foscarina Marcello Fratello Di lui Fu Francesco Secondo Detto Lorenzo Personalità Brillante Di cui ha Tracciato Un bellissimo Cenno biografico E l'amico Gullino Di cui ha parlato Molto a lungo Del Negromo In un modo Approfondito Per la sua Funzione di Riformatore Dello studio Di Padova Carica In cui Ebbe modo Di agire Per il rinnovo Degli insegnamenti Scientifici Una personalità Di grande Rilievo Ma era anche Adepto Alla massoleria Ed era anche Furente Era collerico Ma comunque Sono una personalità Di rilievo Che morì Nel 1793 Il fratello Francesco I Rimase A Venezia Salvo quando Fu potestà Di Padova Fu membro Dei dieci E procuratore Di San Marco Con Una donazione Si occupava Del patrimonio Familiare Che nel 1751 Registrò Un cospico Incremento A seguito Della morte Di Zan Domenico Ultimo Del ramo Dei morosini Di San Canzian Ditti del giardino Per il magnifico Giardino Che ornava Il loro Non meno Magnifico Palazzo Intanto il giardino Era sparito Già prima Era diventato Uno spazioso Cortile Palazzo e giardino Passavano I lontani Cugini di San Stefano Francesco I E Lorenzo E Lorenzo Nel 1759 I due nuovi proprietari Affettarono Edificio Leonardo Valmarana E i nipoti Benedetto Venetto E Prospero Per 29 Anni Per 720 Ducati Anni Doveva essere Una casa Magnifica Casa Veramente Bella Grande Maestosa E comoda Brillo Descrive Il gradenigo Nel suo notatorio Di pietre cotte Benfasciate Di marmi bianchi Con ordine continuo A distanze Soffittate Simili alle sale Con eccellenti pitture La facciata sul canale Era ornata Di affreschi Di Paolo Veronese Ed allogge Sculture E altri ornamenti Sulla porta di terra Un affreschio Di Tiziano Raffigurante Ercole Francesco I Nel 1764 Morì Aveva fatto Un giro Per l'Italia Così Una crona Contemporanea E di ritorno Giunto a Parma Fu sorpreso Da grave malattia Di petto I funerali Furono solenni Il procuratore Lorenzo Morosini Savio attuale Del consiglio Compare Nella consulta Dei savi Come nel collegio Scrive il cronista E fino nello stesso senato Sempre In abito di lutto Per il fratello Defunto Francesco I L'aveva sposato In seconde nozze Elisabetta Corner Da lei Era nato Nel 1751 Un figlio Anche lui Francesco Questi fece La solita Carriera politica Dei grandi E divenne Podestà di Bergamo Senatore Nel 1772 Sposò Loredana Grimani Del ramo Dei servi E tale ramo Sopravviveva Allora Solo il padre Di Loredana Zuan Poi morì E alla morte di lui Loredana Rimasta ultima Ereditava Il grandioso palazzo Eretto di fronte A quello di Idiedo A Santa Fosca Un nuovo grandioso Arricchimento Si verificava così Per i morosini Di San Stefano Quindi due palazzi Pochi anni Più quello di San Stefano Nel matrimonio Nascevano Nel 1774 Francesco Nel 78 Elisabetta Nel 83 Francesco Secondo Ma quest'ultimo Moriva bambino Mentre Il fratello Maggiore Nato nel 74 Moriva anche lui In giovanissima età Nel 93 Una nota Manoscritta Del barbaro Del correr Lo dice Saggio E stimabilissimo Pianto E compianto Da tutti E singolarmente Dai suoi cittadini Con cittadini poveri Per le qualità Che lo adornavano Di quella grande casa Rimaneva solo Elisabetta Possiamo cambiare Questo Si vede Il grande Morosini Quando riceve La stola Procuratoria Questo è suo papà Pietro Che abbiamo visto anche ieri Quello che Ha portato in dote La moglie seconda Ha portato in palazzo Di San Stefano In dote Fatto procuratore Per meriti Più che altro del figlio Ma insomma Anche lui Una personalità Di rilievo Vediamo anche l'altro Si può andare avanti Come si fa Ma come succede È un miracolo È un'abilità È qualcuno Mi legge nella mente Questo è lo zio Marco Antonio Anche stato Ambasciatore In molte In molti Stati d'Europa E vediamo un altro Questo è un altro Zio Michele Anche lui Diplomatico Importante Vediamo ancora Allora questo è Il nipote Michele Aspettiamo Ah no bene Vediamo giusto Il nipote di Pele Michele è importantissimo È quello Che abbiamo sentito Le nodi di lui Fatte dal Morosini Vediamo un altro Questo è Un altro Fratello Di Francesco Morosini Che è il papà Di tutti i figli Che ereditano La sostanza Vediamo ancora Un altro Ecco questo Il palazzo Grimani Quello che Porta in dote Nel 1772 Loredana Francesco Morosini Anche lui Quello che eredita Insieme al fratello Lorenzo Il palazzo Dei Morosini Di San Canziano Come abbiamo accennato Vediamo ancora Questo è interessante Perché è Un Grimani Della famiglia Della moglie Loredana Che è stato Un pezzo grosso Del Seicento E Il ritratto È opera Di Bernardo Strozzi Ed è un capolavoro Che purtroppo Fu venduto Nell'asta A cui accenneremo Che Per fortuna È stato comprato Da un gentiluomo Americano Vissuto Poi a Venezia Che ha acquistato Palazzo Barbaros Daniel Barbaro Che l'ha acquistato L'ha messo In Palazzo Barbaro Poi non so come mai È capitato Per fortuna All'Accademia Di Belle Arti Allora Andiamo avanti Nel 1797 La tragedia Della Repubblica Ecco Questo è il palazzo Morodini San Canziano Che doveva essere Stupendo Ma Il coronelli Lo raffigura In modo un po' Sommario Ma pare che fosse Meravigliosa Come abbiamo detto Allora Elisabetta Abbiamo detto E rimane Unica Figlia Dei Morosini E la troviamo Nel 1799 A Vienna Dove sposa Un giovane Gentiluomo Austriaco Antonio Conte Di Gatterburg Imperial Rejo Chamberlano Nativo Di Rez Dell'età Di anni 25 Figlio Di Procopio Conte Di Gatterburg E Anna Contessa Wetter Von Derlinjen Così Regge del certificato Di matrimonio Chissà come mai Ci sia stato Questo matrimonio Forse I Morosini Pensavano Dopo la caduta La Repubblica Che fosse utile Un rapporto Con il governo Austriaco Forse fu anche Un matrimonio D'amore Cosa Che succedeva Spesso Con i Vegli Ufficiali E le Signore Chi faceva Un buon affare Era Antonio Gatterburg La municipalità Aveva soppresso I fedi Commessi Il padre Di Elisabetta Francesco I Era diventato Padrone A pieno titolo Dei beni Oggetto Della Prigoditura Il diritto Di trasmettere Le donne Non valeva più Ed egli Approfittò Della nuova Legislazione Per trasferire All'unica figlia L'imponente Patrimonio Però Dopo L'Austria Ripristinò Nel giugno Del 98 I fedi Commessi E allora Cosa succede? Che l'Austria L'aveva Ripristinato Allora Si fanno avanti I cugini Morosini San Zan Lateran Cugini Lontanissimi Zaccaria I nipoti Ferrigo Francesco Andrea Che erano parenti Anche loro Sguardolini Ma avevano in comune Con questi Di San Stefano Soltanto Il trisnonno C'erano fratelli Due trisnonni Di questi E loro Quindi si risale Al 500 E c'è una causa Che si conclusa Nel 3 luglio Del 1804 Con una transazione I beni Si dividevano Grosso modo A metà L'Elisabetta Restavano Anche la grande Villa Di Marocco E quasi tutti Gli immobili Di Venezia Più una quantità Di proprietà Di campagna Ai cugini Altri beni Insomma Un mucchio di roba Restavano integralmente Alisabetta I beni del Polesine Perché Esso era rimasto Alla Repubblica Cisalpina E quindi Il ripristino Di fede convessi Non valeva Per Questo Territorio Il Il marito Non si sa bene Che personalità Avesse Rimase a Venezia Sicuramente Perché i patti Nuziali Prevedevano Che gli sposi Risedessero a San Stefano Per di alcuni anni Nascono due figlie Loredana Nel 1806 Marietta Nel 1808 Per trovarli È fatta una certa fatica Perché Di Marietta Non si parla mai Perché Puarina Muore Dopo Otto anni Poi il legame Con il marito Si allenta E Non so perché Ma forse Pensavo perché I rapporti Venezia Torna sotto Napoleone E i rapporti Con l'Astra Peggiorano via via Finché si arriva Addirittura Alla guerra Allora Per stare A Venezia Per un nobile Austriaco Non era L'ideale Forse Forse si Forse si Si sono stufati E allora Lui è tornato A Vienna Però Restavano In Buoni rapporti Elisabetta Era una donna Di una certa Intelligenza Nel 1824 Nel 1824 Forse Scriva Un testamento Che è una bozza Che ho avuto In modo di leggere Che è abbastanza Commovente Perché dice Delle cose Gentilissime Della figlia La piccola Loredana Quella sopravvissuta Che dice Che quello Che mi addolora Di staccarmi Per sempre Da te Oggetto Il più caro Che io posso avere Al mondo E poi Però Ha un pensiero Anche per il marito Che evidentemente Non ha dimenticato Gli lascia La vera Di matrimonio Di due Anelletti Che tiene al dito E ricordano Le nostre due figlie Una vivente L'altra defunta Poi dispone Che sia assolto Dei capitali Che ha speso E che ogni anno Il giorno Della nascita Della figlia Gli si mandi Un regalo E poi Gli prega Che regali Il suo ritratto Che è in palazzo Alla figlia Questo ritratto Dipinto Da Bernardo Castelli Io non sono riuscito A trovarlo Ma il conte Antonio Gatterbo Muore Nel 1928 Elisabetta Si precipita A Vienna E riesce A farsi Assegnare Dopo una serie Di patti E di discussioni Con le autorità Che l'autorità Tutoria Sia trasferita A Venezia Doveva essere Molto insistente Perché non so come mai È finito Un appunto Nel dossier In cui Un anonimo funzionario Annota La visita Dell'Arcinoiosa Gatterbo Si vede Che questo Andava sempre lì A insistere Nel 1828 Muore Loredana Grimani Sì Loredana Grimani La madre Di Elisabetta C'è un bellissimo Testamento Pieno d'affetto E L'anno dopo Elisabetta Ottiene Che Loredana Divente Maggiore N Nel 1936 Elisabetta Muore E Loredana Unica erede Resta sola Nel palazzo Forse Perché non è Tanto bella Pensa Che i pretendenti Non vogliono Lei Ma il suo denaro Non si sposa Fa una vita Poco allegra Ci sono Poche notizie Dona una tela Di Lattanzio Querina La Chiera di Santa Ponal E cosa succede Dei due palazzi Dove non sta Quello dei Servi Vuoto Disabitato Va in rovina E Non ne rimane Più niente L'altro Quello di San Canzian È affittato A Ivalmarana Ma anche quelli A un certo punto Se ne vanno E già nel 1820 Cominciano A portare via Le statue E poi anche Quello finisce demolito È una triste fine Per due Magnifici palazzi D'altra parte Si può capire Che queste signore Non abbiano voglia Di occuparsi Di questi edifici Che sono in fondo Dei relitti Di un mondo perduto In una società In dissoluzione Dove tutto si distrugge Chiese Palazzi Conventi Scuole di devozione Quindi Non investono In una In un restauro Inutile Nel 66 Loredana Legge un testamento Assegna Dei beni Ai morosini Di San Zan Lateran E poi prevede I lasciati A istituti Pi A servitori Ma non dice Niente Del palazzo Dei suoi tesori Poi negli ultimi anni Sembra un po' Che si abbiano perduto Un po' Le facoltà Mentali E la sua morte Tutti speravano Che ci fosse Un testamento In cui almeno Le collezioni Venissero date La città E non l'aveva fatto Il palazzo Era magnifico Il tribunale Appone i sigili Su 22 stanze A pian terreno C'erano lo stemma I trofai di guerra I fanoggi Nell'Alizzi Le statue Nel cortile Nel mezzà Archive Biblioteca Al piano nobile Il portego Con 48 dipinti Raffiguranti Fate d'armi Vittorioso di Francesco Il suo ritratto In centro Sei sovrapporte Con personaggi Di casa Morosini Da esso Si accedeva A tre stanze E alle due Riservate alla dama Dall'altra L'armeria La cappella Con lo stendardo Della nave Ammiraglia del Doge E il ricco Inginocchiatoio La stanza Di ricevimenti Con pareti Sappezzate Di soprarizzo Fondo d'oro Quattro ritratti Incorniciati Magnificamente 17 poltrone Di squisito intaglio La stanza Di privilegi Con le onorificenze Ricevute dal Doge E varie altre stanze Ovunque Ornamenti Stucchi Oggetti preziosi Cosa fanno allora? Visto che non ci sono Eredi diretti Si cercano Eredi legittivi Risultano essere 20 10 Gatterburg Due Rosenfeld Otto Sapari Due Sterazzi Tutti in Austro-Ungheria La meticolosa Redazione Dell'inventario Impegnò 285 giorni Dal 26 gennaio 85 A luglio 86 E fu scritto Su 1077 facciate Ne risultò Una Sostanza Di 7 milioni 157 mila 775 lire Mi capo E niente Poi allora I due Gatterburg Offrono in dono Qualche cosa Al comune Chiedendo un abbono Di tasse Lo Stato Rifiuta Sulle prime Si indigna Ma Era una cosa Da nulla Rispetto A quello Che era L'eredità E le tasse Dovevano pagare Perché Erano in tutto 62 mila lire Su 7 milioni Però Per fortuna Ci fanno avanti Niccolò Papadopoli E altri Facoltosi Cittadini Per cui troviamo Due mercanti D'antichità Tra l'altro Strano Davide Ricchetti Antonio Carrer Mettono insieme 100 mila lire Che riescono A comprare Parecchie cose 16 quadri Di costume Del Longhi Un po' Di ritratti Le armi E qualche Altro pezzo Poi c'è tutta Una storia Curiosa Si fanno avanti Degli Altri Pretesi Eredi Che dicono Che il matrimonio È nullo Perché Sarebbe stato Non c'era nulla Di vero Nel matrimonio Correvano le voci Più strane Elisabetta Fosse fuggita Con l'ufficiale Francese Poi chiusa In convento Indisposata Attraverso Una controfigura Viene ripescato Un vecchio romanzo Di Jules Le conte La dernière Morosini Un poignard De cristal Tradotto Dal francese Dantale LM E pubblicato Nel 1289 Con titolo Ultima L'ultima Morosini Con un polpettone I satì Non si sono inventati Poi i processi Si concludono A favore Degli eredi Di Gatterburg E si giunge La grande asta Del 12-21 maggio 1994 In Palazzo Morosini Di 760 lotti Suddivisi in perle Diamanti Quadri Un evento internazionale Mi dice Il bravissimo Camillo Tonini Che tutto sa Che forse sarebbe possibile Ritrovare Alcuni Degli acquirenti Ma è un'impresa Impossibile Insomma La dispersione Di tanti oggetti Così belli Appartenenti Alla storia Della Repubblica A Dolora Ma poteva Andar peggio Le armi Acquistate dal Comune Per il Museo Correr Sono ora Catalogate La Monica Viero I quadri Sono illustrati Da Teresio Pignatti E Alcune cose Insomma Sono rimaste Rimangono L'archivio E la biblioteca L'archivio Sono circa 600 pezzi Con documenti Morosini E Grimani La biblioteca Di 2418 pezzi Quasi tutta stampa E a poco di antico La cosa più bella Di tutte Forse il Regno Di Candia Contenenti Disegni Del Basilicata Molto belli Descritti Da Camillo Tonini Comunque Non credo Che La biblioteca Fosse raccolta Soprattutto dei Morosini Perché C'è un divertente Appunto E ho trovato Di uno di loro Non so di chi Che dice Distingue Robba buona E robba difficile Robba buona Un trattato De arte militare Bellissimo Da impararlo Tutto a mente La retorica Del cavalcare Da leggerla Relazione di Germania Bene Poi invece Robba difficile Da legger Li tre libri Del macchiavello Ma robba buona Quindi non credo Che fossero Negli intellettuali Ma comunque Forse erano più I grimani Che hanno portato cose Invece Ultima cosa Volevo dire Che sono interessanti Gli acquisti Effettuati Da Loredana Le opere Le opere di Walter Scott In francese Testi sacri Di araldica Vari giornali Veneziani Un giornale Di moda Parigino E tutte le opere Più importanti Di storia E arte veneta Usciti nei suoi anni Per cui Il San Marco De Longania Valutato 1930 lire Il prezzo più alto Dell'intera raccolta Evidentemente La dama Non era ignorante E teneva Alle glorie venete Peccato Che non abbia saputo Tradurre i suoi sentimenti In due righe di testamento A favore della città Avrebbero fatto di lei La degna erede Del doge Che a Venezia Aveva consacrato La vita Ecco Vediamo le ultime Le ultime diapo E poi possiamo chiudere Questo è il palazzo Morosini Che sul rio In ogni istante Che è molto stretto Si vede malissimo Si vede meglio qua È una bella incisione Del moro Vediamo ancora Da qui andiamo svegli Sono personaggi Avanti Personaggi Che erano i sovrapporti Nel salone Del palazzo La regina d'Ungheria Del trecento Antenata Un'altra regina D'Ungheria Antenata Questa La sala Suntuosa Di ricevimento Con le magnifiche Del cornici E le sedie Chissà dove sono andate E queste le sale D'armi Suntuosissime Si capisce che facessero un po' Oppressione Alla povera Loredana E questo per finire in bellezza Il Carlevaris Con il palazzo A San Stefano E il palazzo Loredan La nostra gloriosa sede Basta Grazie Benissimo Grazie a Marino Zordi Che ci ha illustrato Questo dopo Francesco Morosini Sia come vicende Della sua casata E sia per l'appunto Con le connesse Vicende patrimoniali Con tutti gli intresci E qualche Buco scuro Che sempre si verifica In queste circostanze Benissimo Comunque Un cospicuo Veramente patrimonio Che si trasmette Attraverso Tutto l'Ottocento Ecco E allora Siamo arrivati All'ultima L'ultimo nostro intervento Che Gerassimos Pagratis Università nazionale E capodistriaca Di Atene Dove per l'appunto Oltre alle politiche Veneziane Che abbiamo visto Da vari punti di vista Attuate nel regno Di Morea Ci interverrà anche Su quello che è L'impatto Sulla società locale Sulla relazione E sulla organizzazione Delle società locali Prego Grazie Grazie Vorrei prima di tutto Ringraziare L'Istituto Veneto In particolare Il professore Gullino Per l'invito E per la cordiale Ospitalità Io cercherò Di vedere Come ha detto Il professore Poco fa L'impatto Delle politiche Veneziane Alle società Della Morea Di Morea Ma anche Il loro comportamento In tutte le fasi Dalla conquista Fino alla fine Di questo Trentennio Il rapporto Fra governanti E governati Nello stato Damar Veneziano È una questione Che pone Interrogativi Complessi A cui nel corso Del tempo Sono state date Varie risposte Alcune di queste Si collocano In uno spazio In un tempo Ben definiti E si basano Su solide Argomentazioni Altri invece Esprimono Posizioni Semplicistiche Fondate Su luoghi Comuni E concetti Stereotipi I Veneziani Vengono visti A volte Come i liberatori Del Peloponneso E per estensione Dei suoi abitanti Greco-ortodossi Dal giogo Turco Visione Che riflette Certo La posizione Ufficiale Dei Veneziani Durante La guerra Di Morea Altre volte Invece Come Stranieri Ed eretici Che attraverso La conquista Minacciavano Di attirare I greci Verso Il cattolicesimo Fino ad arrivare Alla teoria Più recente Di una convivencia Di greci e veneziani Nello stato Da mar Su una base Di quasi Completa parità Condizione a cui Viene attribuita L'osmosi Culturale Che si riscontra Nei possedimenti Della serenissima In determinate Epoche Regioni Posizioni Dunque Molto Distanti Fra loro E con numerose Gradazioni Intermedie La lunga Durata Del dominio Veneziano Nel Levante La potenza Della Repubblica In confronto Alle forze Sue Andagoniste Nel Mediterraneo Orientale E l'evolversi Nel tempo Di tale Rapporto Di rivalità Le varie realtà Che caratterizzavano Le singole regioni Conquistate Della serenissima Gli orientamenti Della politica Veneziana E le diverse Tendenze Storiografiche Affermatesi Nel corso Del tempo Secondo Ottiche Particolari Tutti questi Fattori Evidenziano La varietà Di possibili Risposte A un quesito Così complesso Come quello Dei rapporti Fra la dominante E i suoi sudditi Greco-Cortodossi Nello stato Da Mar In particolare Per quanto riguarda Il Peloponneso Il ritorno Dei veneziani Rafforciò Il prestigio Della serenissima Inficiato Dalla dolorosa Perdita Di Creta L'uomo Che stipulò Con realismo Il trattato Di cessione Di Candia Avrebbe poi Rivestito Un ruolo primario In questa svolta Così positiva Per la Repubblica Nel Peloponneso La regione Più estesa Mai conquistata Nell'Evante I veneziani Succedetero Agli ottomani Mentre di regola Accadeva L'esatto contrario Trovarono quindi Una situazione Già consolidata E una popolazione Con idee Radicate Riguardo La vita pubblica E privata Idee coltivate Durante la lunga Dominazione Ottomana Alcune caratteristiche Precipue Dei veneziani Tuttavia Come La metodicità E l'efficienza Della loro Della loro Della loro Macchina Statale Le consolidate Strategie Nell'affrontare I vari Cetti Sociali Nei loro Possedimenti D'oltremare I sapienti Sistemi Di comunicazione Propagandistica La potenza Marinara Eccetera Continuavano A costituire Anche allora Una costante La morea Fu conquistata Grazie a tutti Questi fattori E all'abile Gestione Della congiuntura Favorevole E grazie Anche all'opera Dei funzionari E degli ingegneri Veneziani Lo Stato Ebbe La possibilità Di conoscere Nei dettagli La natura Dei territori Conquistati E gli storici Quella di formarsi Una immagine Precisa Della penisola Nel periodo Ottomano Sia precedente Che successivo L'estensione Del nuovo Possedimento E le condizioni In cui i veneziani Lo trovarono Rendono il regno Di Morea Uno straordinario Campo di osservazione Dei metodi Vecchi e nuovi Applicati Dalla Serenissima In vari settori Riguardanti L'organizzazione Della società Dell'economia E degli affari Religiosi Nei suoi possedimenti La presente Relazione Basata Sui risultati Della ricerca Storica Vecchia e recente Sul regno Di Morea Sprefigge Lo scopo Di mettere In luce Le caratteristiche La qualità E le cause Che determinarono I rapporti Di Morosini E delle autorità Veneziane Con le popolazioni Del Mediterraneo Orientale In un estremo Tentativo Di rivitalizzare Le ambizioni Coloniali Della Serenissima Per trovare Le risposte A tali questioni Si cercherà Qui Attraverso Un approccio A importanti Momenti Necessariamente Indicativi Della vicenda Di Francesco Morosini Di esaminare I comportamenti Dei nativi Verso I veneziani Nelle varie Fasi storiche Che vanno Dalla conquista Al consolidarsi Della loro Presenza Sul territorio Fino All'abbandono Del regno Mi soffermerò Inoltre Su questioni Relative Come la conquista Della Morea Venne recepita Dai contemporanei E poi Dalla storiografia Successiva Che fondamentalmente Vede Gli eventi Da una posizione Di preeminenza Nel senso Cioè Che La sua principale Fonte di informazione Coincide di regola Con le posizioni Ufficiali Del potere statale Come è noto La maggior parte Delle forze militari Della Repubblica Era composta Da truppe mercenarie Di varia provenienza I corpi militari Locali Avevano un ruolo Ausiliare Ma in alcuni casi Vitale Del momento Che Al contrario Dei mercenari Stranieri Compattevano Nel loro paese Dove rimanevano Anche dopo La fine Dei conflitti Mi soffermerò Proprio Su queste truppe Locali Per individuare Il loro contributo Allo svolgersi Degli eventi E i loro rapporti Con i veneziani Secondo quanto Attestano le fonti L'inizio Della guerra Delle forze cristiane Qualeggiate Contro gli ottomani Nel 1684 Destò entusiasmo Tra i cristiani Del Mediterraneo orientale Lo sforzo Di appoggiare Le forze veneziane Fu fatto Come era D'aspettarsi Principalmente Dalle isole Ionia Fin dagli inizi Del conflitto Si svolsero Arruolamenti Su vasta scala Sia nelle isole Stesse Che nelle regioni Vicine Grazie a capitali Raccolti sul posto Inoltre Le comunità Locali O meglio I loro Esponenti Più Abbienti E in vista Armarono Galerie Da guerra Di cui Coprivano I costi Di reclutamento E rifornimento Assumendone Anche Il comando Contemporaneamente Contemporaneamente Numerose piccole Imbarcazioni Settinsulare Svolgevano Funzioni Di appoggio Contribuendo Al vetovellamento Delle truppe Veneziane I nobili De leptanezo Eberon Una posizione Di comando Anche In altri Campi Come le operazioni Di terra Sulle costa In distanti Ma anche A livello Diplomatico E l'exempio Di angelos Della décimas Di cui Ha parlato Ieri Professor Del Negro E di Meta Xas Che ha partecipato I negoziati Con gli otomani Per la reza Della fortezza Di Santa Maura Nei primi anni Di guerra Dutavia Furono I capi Militari Originari Delle Piro Della Macedonia Della Grecia Centrale Ad avere Un ruolo Primario Nelle operazioni Di terra Veneziane Alcuni Di loro Combatterono Con i veneziani E rimasero Loro Sempre fedeli La serenissima Li ricompensò Con onori E cariche E con la concessione Del diritto Di gestire Risorse pubbliche Anche Altri Capi Militari Greci Albanesi Appoggiarono I veneziani Avendo però Tattiche Differenti Da quelle Di un esercito Regolare Non seguivano Sempre fedelmente Le strategie Veneziane E non esitavano Perfino A cambiare Schieramento A tali mutamenti Di campo Noti D'altronde Dalle esperienze Italiane Magistralmente Descritte Da Machiavelli Non era Estranea Anche L'ingerenza Ottomana Non si deve Dimenticare D'altronde Che i capi Delle formazioni Irregolari Della penisola Balcanica Meridionale Specialmente Quelli Che appartenevano Alla categoria Dei cosiddetti Armatoli Avevano Rapporti Professionali Ufficiali Con i turchi Per conto Dei quali Svolgevano Funzioni Di controllo Poliziesco Nelle zone Di frontiera Questi cambiamenti Di campo E gli accordi Fra i capi Militari Irregolari E gli ottomani Uniti naturalmente Alla potenza Della macchina Bellica Ottomana Riuscirono Ad evitare Che le iniziali Insurrezioni Nei territori A nord Del Peloponneso Si trasformassero In conquiste Veneziane Definitive Dal 1686 In poi Il baricentro Delle operazioni Veneziane Fu nel Peloponneso Come abbiamo sentito In varie Relazioni A parte Gli abitanti Delle Ptaneso Soprattutto Di Giante E Cefalonia Forono Quelli Della penisola Di Mani Ad avere Un ruolo Di spicco Nelle imprese Veneziane Nella regione I veneziani Trattarono I magnati O mai noti Come nei documenti Con una certa Riserva Li armarono Con parsimonia E se ne servirono Secondo Criteri Selettivi Caratteristica Anche se del tutto Particolare Fu la vicenda Di Liberakis Gerakaris Valoroso Comandante Aveva al suo attivo Grandi successi Per terra E per mare Ed era estremamente Disinvolto Nel cambiare Schieramento I turchi Pur diffidenti Nei suoi confronti Lo liberarono Nel 1688 Per averlo a fianco Nella nuova guerra Promettendogli anche Di nominarlo Bei Fini a questa Alleanza Un po' Lontano Dal Peloponneso Nell'Egeo I veneziani Continuavano Le loro operazioni Anche dopo La conquista Di Morea Conquista Di Chios Ad opera Delle forze Cristiane Nel 1694 Avvenne in seguito A un appello Degli abitanti Cattolici Dell'isola Il suo abbandono Pochi mesi Più tardi Ebbe luogo Grazie all'appoggio Fornito agli ottomani Dagli ortodossi Che costituivano La stragrande Maggioranza Della popolazione Locale Una volta Portata a termine La conquista Del Peloponneso Iniziarono I dibattiti Riguardanti Le modalità Di organizzazione E amministrazione Del nuovo regno In tale contesto Si sarebbero adottate Vecchie e nuove Formule A livello amministrativo Si seguì La struttura Adottata in linea generale Del modello ottomano Dei Casà Con la suddivisione Della regione In 24 territori Che vennero Incorporati In quattro Provincie Come Ha descritto Poco fa Sergio Perini Nelle autonomie locali Fu introdotto L'istituto Dei consigli Della comunità Che avevano sede Nelle città Seguivano modelli Già vigenti Nei territori Veneti E provenivano Dalle famiglie Più in vista Sia dei nativi Che dei coloni Il ruolo Di questi ultimi Era di solito Preminente Avendo legato Le proprie sorti A quelle Dei veneziani Fin dall'inizio Della guerra Vennero Ricompensati Con l'assegnazione Di proprietà Terriere Nel peloponneso E privilegi analoghi A quelli Di cui Godevano Nei loro Paesi Paesi Di origine A queste condizioni I coloni Più potenti Avrebbero assunto Un ruolo Egemone Tra i loro Numerosi Conterranei E di garanzia Per il regime Che i veneziani Cercavano Di impore Nelle campagne L'anello Di congiunzione Tra l'amministrazione Veneziana E la grande Massa Di contadini Era costituito Dai cosiddetti Primati E dai vecchiardi Che erano A capo Di consigli Rurali Istituzione Già vigente Ma in maniera Informale Attraverso Queste due Forme Di rappresentanza Collettiva E le relative Modalità Di funzionamento E di inserimento Di nuovi membri A loro interno Le autorità Veneziane Avrebbero potuto Interferire In modo indiretto Ma essenziale Nella gestione Delle società Urbane Ed extraurbane Per la gestione Del nuovo regno Venere dato Un dettagliato Corpus Di leggi E disposizioni Statutarie Concernenti Tutte le principali Questioni Con il famoso Statuto Per il regno Di morea Applicato Pianamento O meno Soprattutto Di meno E con le leggi Che lo sostituirono A partire Dal 1704 Vennero Introdotte Nella morea Molte delle scelte Dei veneziani Veneziani Già Vigenti In altri Possedimenti Dello Stato Damar E riguardanti La maniera Di governare Una terra Di sudditi Che ora Dovevano Per di più Conformarsi Ai modelli Veneziani Parlando Trasferimento Per il regolare Per il regolare Fino ad Allora Oppure Previa dichiarazione Di due Testimoni Acquisirono Un titolo Provvisorio Di possesso Tutti Gli altri Patrimoni Furono Incamerati Dal demanio Veneziano Che a sua volta I mise Parzialmente A disposizione Dei nuovi Arrivati Ai gruppi Preminenti Dei coloni Che costituirono L'aristocrazia Cittadina Furono Assegnate Terre In un regime Simile Alle concessioni Di tipo Feudale L'istituto Della Contea Del Conde Riservato Soprattutto Ai coloni Atenesi Di Patrasso Verso I quali I veneziani Mostrarono Particolare Benevolenza Comportò Per gli agricoltori Ulteriori Gravi Rispetto A quelli Che avevano Nei loro Luoghi Nativi Questo fatto Insieme alle Angerie Imposte Dai consigli Delle comunità E alle altre Tasse Costituirono Una pesante Rete Di carichi Per le Popolazioni Rurali Si spiegano Così I motivi Che ben Presto Indussero Parte Dei coloni Contadini A scegliere Di ritornare Nei loro Luoghi Di origine Al Malcontento Della Grande Massa Per il regime Che andava Instaurandosi Nella Morea Si aggiunsero Le norme Sul funzionamento Delle due Chiese Cristiane Dopo la Suppressione Della regione Musulmana La costante Politica Della Repubblica Di limitare Le ingerenze Del patriarcato Ecumenico Tra i suoi Sudditi Ortodossi Venne adottata Anche qui L'elezione Dei nuovi Vescovi Ortodossi Da parte Delle comunità Fu una Delle misure Che si inquadrano In tale contesto Non accade Altrettanto Con la Chiesa Cattolica Che rappresentava I dominatori Ma non aveva Fedeli Nel Peloponneso Tranne i soldati Le famiglie Del corpo Amministrativo La riorganizzazione Dei vescovati Cattolici E le missioni Formate Principalmente Da francescani Furono Progettate E realizzate Direttamente Della Santa Sede Sappiamo Naturalmente Dall'esempio Delle isole Ionia Che i veneziani Ponevano Le loro condizioni Sulla scelta Dei prelati Che avrebbero Rappresentato La Chiesa Cattolica Nei loro Possedimenti Alcuni indici Mostrerebbero Che anche Nella Morea Si verificò Qualcosa Di analogo Anzi C'è Anche Una buola Papalia Del 1689 Concessa Dal Papa Ai veneziani A cui Dette Il diritto Di nominare I vescovi Delle sedi Prelaticia Nel Peloponneso E nei possedimenti Della Dalmazia Quando Nel 1714 I veneziani Furono Chiamati A difendere Lo stato Del loro Creato Nel Peloponneso Non c'erano Più le condizioni Che ne avevano Consentito La conquista Inoltre I veneziani Avevano Perduto L'appoggio Sia di Gran parte Dei nativi Che reagivano Contro il Trattamento Favorevole Riservato Ai nuovi Venuti Ai quali Erano state Assegnate Vaste Proprietà Terriere Sia di Coloro Che si erano Trasferiti Nella Morea Per avere Una vita Migliore Gli Aggravi A danno Delle Popolazioni Contadine Risultato Della Istituzionalizzata Disparità Sociale E L'atteggiamento Negativo Della Chiesa Ortodossa Verso I veneziani Che venivano Quasi Identificati Con la Chiesa Cattolica E i suoi Progetti Unionisti Forano Alcune Delle Principali Cause Di Tali Sentimenti Ostili I veneziani Cominciarono A percepire Che la situazione Per loro Era peggiorata Degli Delidenti Risultati Degli Arruolamenti Che avevano Cercato Di fare Nelle Isole Ionie E nel Peloponneso All'inizio Della Seconda Guerra Di Morea Nel 1714 Gli Indici Iniziali Trovarono Conferma Nel Corso Del Conflitto La Grande Maggioranza Dell'elemento Greco Ad Decezione Dei Cittadini Rimase Neutrale O Prese Le Parti Degli Ottomani Fatto Che si Era Verificato Precedentemente In una Parte Almeno Della Popolazione Di Creta E In Molti Altri Possedimenti Veneziani Poi Conquistati Degli Ottomani A Questa Svolta A parte Il Rolo Rivestito Dai Maggiorenti Delle Campagne E dagli Ecclesiastici Avevano Contribuito Anche Gli Ottomani Attraverso Proclami E Accordi Con Persone Che Fungevano Da Loro Rappresentanti Nella Morea Promettevano Di Rispettare La Vita I Beni E La Libertà Religiosa E Di Elargire Incentivi Economici Come La Provisoria Dillazione Del Queste Promesse Gli Abitanti Delle Campagne Passarono Facilmente Dalla Parte Dei Turchi Con L'inizio Delle Ostilità Parve Chiaro Che La Lotta Sarebbe Stata IMPARI E Che Le Conseguenze Sarebbero State Tragiche Per Coloro Che Alla Fine Si Fossero Trovati Dalla Parte Sbagliata Le Potenti Famiglie Che Avevano Affidato La Loro Preminenza Economica E Sociale Riferendosi In Altri Luoghi Anche In Questa Circostanza Venezia Ricompensò Con Lealtà L'appoggio Ricevuto Da Tutti Questi Gruppi Armati E Inermi Gli Atenesi Gli Abitanti Della Grecia Continentale Delle Ubea I Cattolici Di Chios E I Vari Comandanti Militari Dell'area Ottomana Ebbero Molte Agevolazioni Per Trasferirsi In Altri Territori Veneziani E Iniziarvi Una Nuova Vita Lascio Qui Una Buona Parte Di Quello Che Riguarda L'aspetto Storiografico Per Non Sparare Il Tempo Quando Tutti Questi Eventi Raccontati Di Venero Storia In Un Periodo In Cui Si Andavano Formando Gli Stati Nazionali Lo Schierarsi Dei Greci Al Fianco Dei Veneziani Per Il Bene Della Cristianità Sarebbero Sarebbe Stato Presentato In Una Ottica Differente Cioè Inquadrato Nella Necessità Di Raccontare Le Lunghe Lotte Della Nazione Per Conquistare La Libertà Il Primo Da parte Greca A Pubblicare Un Testo Storico Su Questi Avvenimenti Fu Costadino Sathas Il Quale Per Descrivere Le Mosse Dei Greci Negli Scondri Bellici Per La Conquista Della Morea Usa Il Concetto 26 Pagine Scritto In Stile Pomboso Ispirato Dalla Ispirato A Rettorica Patriotica Conforme D'altronde Allo Spirito Dell'Epoca Sathas Ammette Nel 1865 Ammette Sì Il Contributo Dei Veneziani Alla Insurrezione Dei Greci E Giudica Le Loro Imprese Come La Più Ufficiale Fra Le Sette Rivoluzioni Organiate Dai Greci Dalla Caduta Di Costantinopoli Fino Alla Loro Liberazione Dai Turchi Nel 1821 E Questo Perché Portò A Una Libertà Secondo Sathas Di Trenta Anni La Cui Fine Fu La Conseguenza Del Tradimento Dei Veneziani Sathas Qui Intende Dire Che Questi Ultimi Si Concentrarono Sul Peloponneso E Abbandonarono Le Altre Regioni In In Sorte È Evidente Che Ci Troviamo Con Un Piccolo Scarto In Un Contesto E In Uno Stile Seltutto Differenti Dalla Posizione Ufficiale Veneziana Di Quell'Epoca Le Stesse Notazioni Risultano Anche Dalle Opere Sintetiche Sulla Storia Della Nazione Greca Pubblicate Dal 1970 In Poi È Stato Necessario Arrivare Al 1975 Perché Ioannis Cassiotis Scrivesse Realista E Calcolatore Il Condottiero Veneziano Non Mirava La Liberazione Di Un Paese E Di Un Popolo Dal Passato Glorioso Come Lasciava Intendere La Propaganda Veneziana Cercava Di Occupare Territori Che Avrebbero Fornito Alla Serenissima Vantaggi Economici Derivanti Dall'eventuale Rinascita Del Suo Vecchio Stato Coloniale Proprio Nello Stesso Anno Del 1975 Ho pubblicato Il libro Di Costadino Sdokos Intitolato La Grecia Centrale Durante La Guerra Turco Veneta Sostanzialmente La Prima Ricerca Sistematica A Livello Di Tesi Di Dottorato E Basata Su Ricerche Nell'Archivio Di Stato Di Venezia Sulla Seconda Dominazione Veneta Nel Peloponneso Lo Studioso Sostiene Che I Greci Si schierarono Apertamente Della Parte Della Serenissima Almeno Nella Prima Fase Del Conflitto Lo Spiega Con Il Sostegno Offerto Ai Veneziani Dalla Chiesa Ortodossa Locale Che Con Questa Svolta Si Aspettava Una Maggiore Libertà In Campo Religioso Ma Anche Le Diverse Tattiche Che Morosini Adottò Nei Riguardi Dei Prelati Poiché Si Rendeva Conto Che In Un Certo Qual Modo Si Trattava Di Guide Del Popolo Concludendo Per Riuscire a Conquistare La Morea Andando In Qualche Modo Contro Il Corso Della Storia Venezia Dovete Sfruttare Una Serie Di Fattori Favorevoli Congiunturali E Strutturali Insieme Al Genio Strategico Di Morosini E Dei Suoi Uomini Per Terra E Per Mare E All' Appoggio Di Una Parte Delle Popolazioni Locali Quando Nel 1704 Iniziò La Settima Guerra Turco-Veneta La Situazione Avrebbe Favorito Il Belligerante Effettivamente Forte Dal Punto Di Vista Militare Cosa Che I Veneziani Non Erano I Comportamenti Delle Persone Inermi Furono Prevedibili Nella Prima Fase Della Guerra Di Morea Lo Stimolo A Trasferirsi Nel Nuovo Possedimento Fu La Speranza Di Una Vita Migliore Sia Per Le Popolazioni Contadine Che Per I Cetti Ambienti Che Si Trasferirono Nelle Aree Urbane Anche I Combattenti Nativi Del Luogo Si Mossero In Maniera Prevedibile Attirati Dalla Prospettiva Di Vantaggi Derivanti Dai Compensi E Dalla Legittimazione Di Incursioni E Saccheggi Si Schierarono Con I Veneziani Ma A Volte Seguirono Strategie Autonome Dal Loro Canto I Veneziani Dinanzi Alla Loro Ultima Occasione Di Far Rivivere Il Sogno Coloniale Realizzabile O Anacronistico Che Fosse Agirono Secondo Schemi Collaudati Nonostante I Loro Nuovi Orientamenti In Alcuni Settori Divisero Le Società Del Peloponneso E Nella Massa Che Lavorava Per Soddisfare Questi Ultimi E Aveva L'obbligo Di Sottostare A Prestazioni Personali E Oneri Fiscali Analoghi O Forse Più Pesanti Di Quelle Del Periodo Ottomano I Veneziani Agirano In Base A Pratiche Ormai Collaudate Anche In Campo Religioso Fatto Che Produce Spesso Disordini Sociali La Loro Versione Propagandistica Cioè Che La Liberazione Della Morea Avveniva Per Il Bene Della Cristianità Era Almeno Convincente Per Una Parte Delle Società Cattoliche Come Quelle Dei Paesi Che Avevano Costituito La Sacra Lega Ma Non Sembra Facesse Prese Sugli Ortodossi Se Non Solo Nella Prima Fase Del Conflitto Indipendentemente Dalle Politiche Che Il Governo Veneziano Adottò Nel Peloponneso I Ormai Radicate E Mentalità Che Si Erano Forgiate In Un Contesto Ottomano Tra Queste Il Patriarcato Ecumenico Aveva Un Rolo Centrale E Legittimato Dallo Stato Ottomano Era Pertanto Inevitabile Che Quando Fosse Arrivato Il Momento Cruciale Sarebbero Rimasti Fedeli A Venezia I Sudditi Delle Isole Ionie E I Cetti Elevati Dei Colonni Per La Stragrande Maggioranza Della Popolazione Del Peloponneso Il Dilemma Fra Due Dominatori Uno Cristiano Ma Non Ortodosso E Uno Musulmano Non Presentava Una Tendenza Scontata A Favore Del Primo Ringrazio Bene Grazie Grazie Grazimos Pagratis Per Questa Sua Relazione Che Da Una Parte Nella Parte Iniziale Appunto È Andata A Visionare La Ricezione Da Parte Delle Popolazioni Locali Di Questo Contrasto Veneziano Ottomano E Poi Nella Nella Parte Finale C'è Anche Illustrato Gli Interventi Storiografici Attuali Come È Stato Letto E Riletto Questo Capitolo Importante Non c'è Ombra Di Dubbio Per La Nostra Storia Di Venezia E Anche Ovviamente Della Morea Benissimo Allora Siamo Giunti Alla Conclusione Del Nostro Convegno Se Possiamo Stare Insieme Ancora Qualche Minuto Prego Alla Fine Di Questo Colloquio Leggendo Anche L'abstract Di Gino Benzoni Qua Non è Presente Ecco Mi chiedo In definitiva Nella Prospettiva Dei costi Benefici È stata Un'operazione Di carattere Politico Politico Istituzionale Addirittura Imperiale Questa Riconquista Della Morea Oppure C'è stato Un calcolo Anche Economico Di cui Parlava Pagratis Anche In definitiva Ecco Venezia C'era posto Il problema Molti Decenni Prima Conquistare La Lombardia Oppure No E La risposta Era stata No Non ci conviene Ci conviene Comerciare Con la Lombardia E non conquistare La Lombardia Per quanto riguarda La Morea Ecco Il problema Si ripresenta Ecco La relazione Di Pagratis È molto interessante E pone Un sacco Di problemi Devo dire Che cosa Significa Stato Nazione Che cosa Significa Impero Veneziano Se si può Parlare Di impero Oppure No Diciamo Una problematica Molto complessa Però Mi interessava Capire Se in definitiva È stata Un'operazione Diciamo Istituzionale Mitica Oppure C'è stato Alle spalle Un qualche calcolo Economico Da parte Di Venezia Beppe È motivata Da cosa A parte La debolezza Dei veneziani Gli umori Della popolazione Locale Che erano Mutati Però C'è da presupporre Questa è la domanda Che faccio Una riscossa Una riscossa Terrestre E marittima Dei turchi Durante la seconda guerra Grazie Rispondo Assomigliano Un po' Le domande Certo La domanda Del professor Ciriacono Aggiunge Anche L'aspetto Economico Secondo me I problemi Che sono posti Sono Più Delle risposte Che abbiamo In questo In questi due Settori Per quanto riguarda L'aspetto Economico Certo Luciano Pecciolo È più Adatto E specializzato A rispondere Se conveniva I veneziani Avere Morea Trent'anni Che Hanno avuto Questa Ragione Certo Non è un periodo Abbastanza Lungo Per Per Avere Profitto Da Un investimento Enorme Economico Era Non solo Le operazioni Militari Ma anche L'organizzazione Delle terre L'organizzazione Della colonizzazione Quindi Penso che Alla fine Non conveniva Economicamente Però Era anche Che Ha durato Solo 30 anni Questo Questo Dominio Poi per quanto riguarda La Rivincita Ottomana E questa 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 Conquista Era basata Secondo quello Che si legge Nella storiografia Ma forse anche Nelle fonti Alla Ad una Ad una Congiuntura Una congiuntura Che ha permesso Ai veneziani Di Passo a passo Di Credere Che era Realizzabile Questo Rivivere Questo Sogno Non vedo Essere scritto Che c'era qualche Progetto Dell'inizio Di conquistare Morea Perché era Economicamente Utile Allo Stato Veneziano Alla fine Non c'erano Queste congiunture E in più Gli ottomani In decadenza O no Dal punto di vista Militare Forse Lo erano Però Nel paragone Con la Forza militare Veneziana Nel numero Dell'esercito Ottomano Ma anche Grazie al contributo Di locali Della popolazione Che rimase O indifferente O in alcuni casi Prese la parte Dei turchi E' successo Il ritorno Degli ottomani In questa In questa terra I turchi Poi hanno Rispettato I patti Cioè i greci Sono stati contenti Di essere tornati Sotto il dominio Turco O hanno Rimpianto Quello Veneziano Alla fine Parla della fine Sì Ci sono casi E casi C'erano Greci Che hanno Collaborato Appertamente E questi Hanno mantenuto La loro sicurezza La loro vita E altri posti Altre città Che avevano Resistito E quindi Si sono Puniti In modo Molto aperto Perciò Proprio Perciò Quelle classi Sociali Che erano Appertamente Schierate Dalla parte Dei veneziani Come i coloni Gli attenesi Tutti questi Mi viene In nome Dei peruli Forse I più Conosciuti Atenesi Che tramite Morea Arrivarono A Venezia E qui Hanno fatto Una Grande fortuna Come armatori Di navi E come Parte Della nobiltà Veneziana Forse L'unico Caso Del settecento Questi Ovviamente Hanno seguito I veneziani I cittadini Di Monevasia Tramite Le isolioni Arrivarono A Venezia Quelli Di In generale Di Patraso Di Argos Le Le classi Più Ambienti Delle città Sapevano Che Non dovevano Rimanere A Morea Quando i turchi Sarebbero Tornati Per la Parte Contadina Solo In alcuni Casi Che avevano Preso La parte Sbagliata C'erano Punizioni Quindi Una risposta Che Va A seconda Delle Della Casi Stica Un vantaggio Economico Però certamente Si crearono Almeno Una ventina Di rettorati Che Aiutarono Economicamente Famiglie Della Quarantia O addirittura Di Barnaboti Cioè Del Patriziato Più debole Economicamente Veneziano Tra questi Il fratello Del famoso Musicista Benedetto Marcello Che fu Proveditore Mi pare In laconio Grazie Se permettete Appunto Un'osservazione Conclusiva La mia impressione È esattamente Come è stata Definita Che Ci fosse Proprio Almeno Nella fase Iniziale Nella questione Di Candia Nella questione Della Morea Un Intravedere Ecco Da parte Di Famiglie Veneziane Degli Interessi E anche Degli Interessi Di carattere Di carattere Politico Soprattutto Nella fase Iniziale Mi colpisce Molto Nelle Costruzioni Che appunto Leggevo Il fatto Che Le primi Scontri All'altezza Di Candia Siano Di Sì Navi Prevalentemente Veneziane Ma come appunto Le navi Pontifice Che vengono Cosa Il re Di Napoli Che manda Anche lui Due navi Cioè Quasi come Se Venezia Volesse Riproporsi Come una Specie Di Catalizzatore Ecco E di Ovviamente Potenza Dominante In grado Di garantire Una serie Di transiti E di traffici Con Anche Con Il mondo Musulmano Perché poi Queste merci Vanno pure A finire di là Ecco E viceversa E che quindi Intendesse Ricostruire Insomma O Ampliare Questo suo Possesso Lungo L'asse Dell'Adriatico E poi Naturalmente Nel Mediterraneo Poter avere La garanzia Di Di non essere Sempre Assalita Per quello Che riguardava Le navi Mercantili E via via Fissare delle colonie Che potessero Anche portare Impressione Quella Ecco Non so se Sbaglio Sbaglio Poi Le cose Andarono Un po' Diversamente Ecco Si capisce Che le Popolazioni Rurali E viceversa Così come Non vengono Punite Dopo Non avevano Parteggiato Per il nemico Prima Si erano tenute Fuori E' un po' Un gioco Di potentati E di loro E di loro Bene Allora Dopo queste due Interessantissime Giornate Ci possiamo Credo salutare Ringraziamo I relatori Presenti Della giornata Anche a nome Dei relatori Di ieri Ho l'impressione Che sia venuto Un convegno Molto bello Lo dicevamo Ci confrontavamo Per il fatto Che partendo Da aree disciplinari In fondo Diversi Esercitandoci Su un momento Che non a tutti E' oggetto Specifico Di studio Abbiamo però Verificato Da varie Provenienze Di settori Di indirizzi Di studio E di varie Università Una convergenza Che mi pare Molto interessante Il che vuol dire Che effettivamente Il lavoro Di ricerca Che Si sta conducendo È un lavoro Che porta Ad illustrare Per Benino Momenti Importanti Del nostro Passato Che poi E ma qui Mi fermo Possono anche Riflettersi Molto Nel nostro Presente Grazie a tutti Voi Di essere venuti Naturalmente C'è L'impegno E la promessa Del comitato Organizzatore Delle manifestazioni Morosiniane Di procedere Poi In tempi Ragionevoli Alla pubblicazione Degli atti Che raccoglieranno Per iscritto Con tutte le Precisazioni Del caso Gli interventi Di questi giorni Una buona Serata Veneziana A tutti Grazie